Quando si è circondati dai giovani è subito festa. Oggi la chiesa della diocesi di Trani si ritrova per questa festa della gioventù. Sì, come in questa diocesi, così in tutte le diocesi del mondo si festeggia oggi la giornata della gioventù. In vista della giornata mondiale della gioventù che Papa Francesco vuole vivere a Cracovia, in Polonia. Ed è stato proprio il Papa Francesco a chiedere a noi Vescovi di partecipare ai giovani il suo messaggio. Già lo scorso anno egli dette il messaggio della beatitudine sui miti, beati miti perché erediteranno la terra. Quest'anno ha voluto dare il suo messaggio sui puri di cuore perché vedranno Dio. Ecco, sono le beatitudini, la via della bellezza, la via della gioia che i cristiani devono saper battere per essere alla seguela di Cristo che è morto ma è risorto. Per cui deve prevalere nella nostra vita la risurrezione. Ma perché prevalga questa gioia della risurrezione è necessario che noi ci svuotiamo del nostro io. Per cui i giovani che sono aperti, sensibili alla vita trovano nel messaggio di Papa Francesco davvero una stimolazione forte quest'anno per lasciarsi incontrare da Cristo e per vedere Cristo come dice lo stesso Pontefice attraverso la via della preghiera, la via della Sacra Scrittura, la via della fraternità. Sì, Cristo ci guarda, Cristo ci attira a sé quando noi ci apriamo a Lui, ecco la relazione che si chiama preghiera. Poi Cristo noi lo conosciamo attraverso le Sacre Scritture. Tutta la Bibbia è la storia della nostra salvezza e la storia della nostra salvezza la fa Dio, non senza di noi ma con noi. Cosa chiedono invece i giovani? Cosa si aspettano i giovani in questo momento? I giovani hanno bisogno di certezze, di sicurezze, di una gioia da condividere con gli altri. Diciamo questo ci viene dalla Chiesa, dallo stare insieme, dal poter condividere qualcosa di più grande che va al di là di noi. Un punto di riferimento ma anche un po' di speranza per il futuro? Beh, sicuramente la Chiesa può essere un grande punto di riferimento per noi giovani, soprattutto se si attivano molti di questi incontri anche per noi, perché comunque è un'età abbastanza fragile in certe occasioni, quindi la Chiesa deve essere un punto di riferimento. Grazie. Grazie.